Per gli amanti dei videogiochi si tratta di una sanzione pesante almeno quanto la condanna inflitta Silvio Berlusconi, perché in una catena GameStop se in casa hai almeno una console ci siamo praticamente entrati tutti almeno una volta nella vita, attirati magari dalle incredibili offerte da volantino che promettono l'acquisto di nuovi videogames a prezzi quasi stracciati e sono proprio quelle offerte ad essere finite nel mirino del garante della concorrenza e del mercato che ha condannato GameStop Italia, che in Salento conta ben sei punti vendita tra Brindisi, Misanni e Taranto e Lecce, al pagamento di una sanzione di ben 169 mila euro. L'accusa è di pratiche commerciali scorrette e quindi di una lunga serie di irregolarità nell'attività di comunicazione della nota catena di negozi specializzati in videogiochi e console. Secondo il garante da giugno 2009 numerosi clienti sono inciampati in informazioni non veritiere sui prezzi di vendita delle console e sui diritti di recesso. Nel bollettino del garante viene citato ad esempio il caso della console Xbox 360 Pro venduta a soli 99 euro portando la vecchia PlayStation 2 più memory card originale PlayStation 2 più 5 giochi PlayStation 2 oppure 4 giochi PlayStation 3 Xbox 360 Wii. Il problema è che le restrizioni applicate indicate al fondo dei volantini rendevano piuttosto complicata l'adesione all'offerta, a meno che non si disponesse di specifici giochi al top di gamma. Non meno importante il fatto che i punti vendita GameStop si sarebbero rifiutati in diversi casi di ritirare una console della Sony PlayStation 3 che aveva manifestato dei difetti del lettore della console. Nonostante il problema si fosse manifestato entro il termine di due anni della consegna del bene, insomma dopo sei mesi dell'acquisto non sarebbe stata rispettata la garanzia di conformità. Ma non è andata meglio a chi ha tentato senza fortuna di ottenere il rispetto della garanzia legale. Dopo i 12 mesi da una segnalazione pervenuta in data 5 novembre 2012 emerge che il professionista, si legge nel bollettino del garante, rifiuterebbe la sostituzione immediata dei videogiochi difettosi una volta trascorsi sette giorni dalla consegna degli stessi rinviando il consumatore al centro assistenza del produttore. Facile prevedere un ricorso al TAR del Lazio da parte di GameStop, da anni al centro di un vero e proprio attacco ironico, ovviamente via internet, da parte degli hardcore gamers che hanno spesso criticato le politiche dell'azienda e soprattutto le sue offerte, le stesse che ora hanno causato la sanzione record.